Siamo qua a partecipare a questo dibattito, Magda Bianco, Senior Economist di Banca d'Italia, facciamo un applauso. Buongiorno Magda. Rodolfo De Benedetti, amministratore delegato della CIR. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Laura Donnini, amministratore delegato RCS Libri. Patrizia Grieco, presidente di Olivetti. Prego, buongiorno. E Emilio Petrone, amministratore delegato della CISAL. Allora, ci sono tre donne e due uomini, si è parlato di quota azzurra, comincerò da De Benedetti, se va bene con tutti quanti. Comincerò da lui anche perché leggevo la sua famiglia è ricca di talenti femminili, no? Ci sono moglie, tre figlie e anche il cane se l'hai scelto per donna. Sono una quota di genere. Eh? Sono una quota di genere. Allora, in una società quotata, come per esempio la CIR, ma lei non è soltanto il capo della CIR, com'è, ed è difficile bilanciare appunto i risultati che vengono richiesti a breve termine, specialmente da chi investe nelle vostre società, e un'idea di sostenibilità a lungo termine. E soprattutto le donne che ruolo hanno per cercare di conquistare e arrivare a questi obiettivi? Beh, guardi, io credo che questa dicotomia che sovente viene citata come un problema insolubile, cioè come conciliare i risultati a breve con i risultati a medio e lungo termine, onestamente è una difficoltà che mi sfugge, nel senso che noi siamo un'azienda quotata da alcune decine di anni e abbiamo sempre raccontato ai nostri azionisti che la nostra strategia può essere valutata solo nel medio e lungo periodo. Non si può, credo, fare l'imprenditore guardando i risultati trimestrali. Si fa un altro mestiere, ma credo che sia molto difficile non traguardare il medio e lungo termine. Credo che il profitto, mi riconosco molto, ho apprezzato molto le parole che sono state lette prima di Einaudi, perché credo che questo sia un paese che dovrebbe ritrovare un rispetto per il profitto, un apprezzamento per il profitto. Il profitto, se lei va su Ugar e scrive profitto, viene fuori una valanga di accezioni negative della parola profitto, perché c'è un sospetto, in qualche modo, che è qualcosa di culturale. Ora, io penso che questo sia molto sbagliato, perché il profitto è una quantità residuale, che fra l'altro ha un segno più, non ha un segno meno, che è anche simbolico, e che sta a dimostrare che l'azienda o l'imprenditore che svolge un'attività economica in qualsiasi settore fa una somma di cose che hanno dei segni più e dei segni meno, ma alla fine il segno è più. E questo valore segnaletico del profitto è indispensabile. Cioè, un'azienda non vive e non può guardare solo all'ultima riga del conto economico, che è il profitto del conto economico, e non occuparsi di tutte quelle altre accezioni della parola profitto, che sono il rispetto dei clienti, dei dipendenti, dei fornitori, dell'ambiente, della comunità locale nella quale l'azienda opera, perché sarebbe una visione molto miope, perché magari si fa profitto per qualche mese o per qualche anno solo guardando quello, ma non si fa profitto nel medio-lungo termine. Per cui, per tornare alla sua domanda, così come oggi chiunque guarda al nostro Paese, non guarda i conti di quest'anno, ma guarda a quali sono le prospettive a medio-lungo termine e alla capacità di questo Paese di intraprendere o di ritrovare un percorso di crescita. È la stessa cosa per un'azienda. Cioè, se un'azienda viene vista come un'azienda che può essere profittebole solo nel breve, penso che verrebbe penalizzata dagli investitori. È stato citato prima uno studio della Banca d'Italia, che ha quantificato in sette punti di PIL il miglioramento all'attività economica di un Paese come l'Italia, se il tasso di partecipazione al lavoro delle donne fosse almeno uguale a quello degli uomini. È un'enormità. Cioè, sette punti in un Paese, diciamo, che declina come il nostro, cambierebbe i numeri in modo sostanziale. Però, secondo me, le due cose vanno accoppiate. Cioè, pensare di aumentare il tasso di partecipazione delle donne all'economia senza rispettare e, diciamo, gestire il Paese e prendere delle decisioni e fare delle regole che garantiscano il giusto profitto a chi rischia e intraprende, e le due cose non vanno insieme, perché aumentare la partecipazione al lavoro vuol dire creare posti di lavoro. Per creare, chi crea posti di lavoro sono le imprese. E le imprese creano posti di lavoro perché pensano di poter fare dei profitti. Ripeto, con l'accezione più larga della parola profitto della quale parlavo prima. Finisco per rispondere alla sua domanda su cosa facciamo noi. Ma noi, diciamo, abbiamo intrapreso un percorso anni fa, ben prima che questo fosse un obbligo di legge, di aprire le nostre aziende, i consigli di amministrazione, il più possibile ad una presenza femminile. Lunedì prossimo, quando ci sarà l'assemblea della nostra società, avremo un consiglio che sarà composto da quattro donne su tredici, oggi sono tre, e delle quali una di queste, Monica Mondardini, sarà chiamata a fare l'amministratore delegato dell'azienda. Lo fa già dell'azienda Espresso da quattro anni. e ho avuto modo, in concreto, sia con Monica che con le altre donne che siedono nei nostri consigli di amministrazione, ho citato la CIR, ma è vero per l'Espresso, è vero per la Sogefi, è vero per la Cofile, per tutte le aziende del nostro gruppo, è un arricchimento. E qui non si tratta di fare una roba che fa bello, che uno può venire qui e illustrarsi. Siccome abbiamo sentito molti concetti. È una cosa molto concreta. Concretamente. È una cosa molto concreta. Ma io mi viene in mente un esempio, cioè quando si è ragazzini e si compongono le squadre di un qualsiasi sport di squadra e si scelgono, se uno eliminasse le donne è come se decidesse di eliminare la metà dei talenti. E' una totale stupidaggine. Nel senso che ci si preclude di andare a cercare i talenti laddove ci sono statisticamente più o meno la metà stanno da una parte, più o meno la metà stanno dall'altra. Secondo me solo un cretino sceglie di fare una squadra solo con la metà dei potenziali giocatori che potrebbero giocare in quella squadra. Per cui credo che sia una cosa molto pratica, non è una cosa ideologica. Ognuno di noi che gestisce delle aziende deve portare dei risultati. Detto questo come ricordava giustamente Silvino, non è che uno deve scegliere, perché è una donna solo perché è donna. Deve scegliere in base al merito e in base alla capacità. Ma ripeto, statisticamente il merito e la capacità stanno più o meno al 50%, visto che siamo più o meno metà e metà, stanno più o meno metà nella parte e metà nella parte. Soltanto per una questione di numeri e statistiche basterebbe fare quasi metà e metà. Forse è un po' semplicistico, ma a me sembra abbastanza convincente. È abbastanza convincente. Grazie, grazie De Benedetti. Magda Bianco, lo senior economist alla Banca d'Italia. Il PIL, ricordava, è una misura universalmente accettata. Anche se oggi sembra un po' come l'unica risposta perché cattura delle variabili un po' tecniche, un po' astratto, diciamolo così. Allora, è possibile individuare delle variabili che misurino la qualità della crescita di un paese o di un'azienda? E in queste variabili c'è anche il fattore D? Dunque, sicuramente sì, nel senso che è vero. Il PIL continua a essere oggi, ovviamente per noi economisti, ma un po' in tutto il mondo. La variabile di riferimento per misurare il benessere economico di un sistema lo utilizziamo per misurare la nostra capacità di crescita. È la variabile su cui identifichiamo le debolezze del nostro sistema, però sicuramente è sempre più riconosciuto come limitante nella sua capacità intanto di tenere conto di un insieme di fattori che misurano appunto la capacità di crescita prospettica di un sistema, ad esempio anche nella sua componente distributiva all'interno del paese, ma anche perché essendo una variabile solo di flusso non tiene conto per esempio degli effetti che questi flussi hanno sugli stock del sistema, come possono essere le risorse naturali su cui appunto l'impatto di variabili economiche può essere significative. Allora, per provare a ampliare il concetto, nel tempo si sono cominciate a sviluppare delle altre misure, hanno iniziato le Nazioni Unite perché appunto confrontate con le esigenze soprattutto dei paesi in via di sviluppo, hanno cominciato a costruire degli indicatori che per esempio tenevano conto della salute o del grado di educazione di un sistema. Però direi che l'impulso fondamentale è venuto un po' dalla riflessione fuori dall'economia in realtà, da filosofi come Amartya Sen che ha cominciato a diffondere e a rendere molto rilevante il concetto appunto di sviluppo sostenibile di cui parliamo oggi, come capacità di un sistema di trasmettere, di riprodurre alle generazioni future, lui diceva addirittura ai pronipoti, la stessa capacità di soddisfare i bisogni, ma addirittura lui va più in là nel senso di identificare il benessere anche con le libertà fondamentali, la capacità di assicurarle. Allora, che cosa abbiamo a disposizione oggi per provare a tenere conto di questo? Io credo che un esempio molto importante, molto significativo in Italia oggi sia la costruzione in realtà da parte di Istatecnel di un insieme, di un primo progetto con un insieme di indicatori di benessere equo e sostenibile, questo progetto BESS, che prova a misurare questa possibilità di sviluppo con 12 indicatori, li devo leggere perché non me li ricordo tutti, anche se alcuni sono assolutamente ovvi, sono il primo la salute, il secondo l'istruzione, il terzo il lavoro, ma le capacità di conciliazione anche, e qua veniamo appunto a un aspetto rilevante anche per il mondo femminile, il benessere economico, le relazioni sociali, la politica e le istituzioni, la sicurezza, il benessere soggettivo, il paesaggio e la politica culturale del paese, l'ambiente, la ricerca, la capacità di innovazione, la qualità dei servizi. Potrà non essere l'insieme completo degli indicatori che ci dicono appunto quanto il nostro paese, quanto il nostro sistema è in grado di produrre benessere oggi, ma di riprodurlo anche per il futuro, ma sicuramente è un primo esercizio importantissimo, fondamentale, richiederà in qualche modo delle capacità di aggregare tutti questi indicatori, forse in un unico indicatore che possano usare anche gli economisti appunto per fare le loro analisi, ma credo che sia appunto un primo tentativo importantissimo. Io vorrei fare un flash sul profitto come strumento che resta fondamentale, come diceva anche Benedetti, le parole di Einaudi sono sicuramente verissime, anche oggi il profitto resta un fattore fondamentale di sviluppo, di incentivo allo sviluppo e all'innovazione, richiede sempre di più, come abbiamo visto nella crisi finanziaria, regole via via più pregnanti a seconda di quanto possono essere i fallimenti nel sistema, nei singoli mercati. Però credo che abbiamo sempre più bisogno di riconoscere che il profitto e quali economisti stanno sviluppando pure le loro teorie, non è l'unico motore di comportamenti e di incentivi a fare, a fare bene. Esistono altri meccanismi incentivanti che sono l'altruismo, la voglia di ottenere benessere anche per gli altri che ci sono intorno. Allora, politiche, politiche sociali, economiche, media, partecipazione sociale in senso lato che tenga conto anche di questi fattori incentivanti nel comportamento dei soggetti, credo che siano fondamentali per raggiungere equilibri migliori, più, a volte più complessi, ma che garantiscano anche di più le generazioni future. Tra i fattori indicatori ha menzionato conciliazione tra lavoro, immagino, famiglia, e vita quotidiana. Vita insensolata, sì. Là dove, ormai, è prassi, forse uno stereotipo, è un vecchio vizio, forse, specialmente quello italiano, dove si tende sempre, questa conciliazione la si cerca sempre nel lavoro femminile e molto di più di quanto non lo si cerca nel lavoro maschile. perché nei fatti il carico della conciliazione, almeno in Italia, grava soprattutto sulle donne. Ovviamente le esigenze di conciliazione dovrebbero riguardare tutta la popolazione, certo, e quindi anche gli strumenti di conciliazione essere via via più tarati su entrambi i mondi. In questo senso credo che ovviamente tutti gli strumenti a supporto delle attività di cura sono importantissimi, ma strumenti che riguardano l'organizzazione del lavoro sono fondamentali soprattutto appunto se percepiti come fruibili da entrambi e non tra virgolette ghettizzanti perché rivolti prevalentemente alle donne. E tra l'altro a proposito di donne leggevo un interessante dato qui di Union Camera che segnala che la maggioranza delle nuove imprese avviate negli ultimi tempi sono matrice femminile in questo paese. Quindi c'è adesso un maggiore equilibrio tra imprese diciamo maschili e imprese femminili o siamo ancora veramente all'inizio di una lunga scalata? Direi la seconda nel senso che sicuramente la maggiore dinamica come diceva il Ministro Passera quest'anno nel 2012 l'hanno mostrata le imprese femminili difficile da interpretare ovviamente è segno di una maggiore dinamica segno di una maggiore attenzione anche nello strumentario disponibile il Ministro parlava appunto di questo protocollo importante tra Ministero dello Sviluppo e fare opportunità con dei fondi a garanzia dell'accesso al credito delle imprese femminili diciamo sono tutti strumenti che probabilmente favoriscono un accesso all'imprenditoria del mondo femminile che è sempre stato difficile però quanto questo maggiore maggiore presenza femminile nell'imprenditoria quest'anno sia dovuta a questo o non sia dovuta a meccanismi più di necessità di accedere in qualche modo a un mercato del lavoro che soffriva probabilmente nell'altra componente familiare con maggiori difficoltà per la parte maschile di accesso al mercato del lavoro è molto difficile dirlo ancora in queste condizioni quindi se lo dobbiamo leggere interamente come un segnale positivo o anche in parte come effetto della crisi sul mercato del lavoro maschile ancora va valutato grazie grazie Magda Patrizia Greco presidente di Olivetti allora io parlo da un dato qua disoccupazione giovanile siamo al 40% che è un numero qui si può parlare di profitto di equilibrio di società è un numero che solo questo fa discutere e fa anche un po' rabri di dire Olivetti siamo stati molto attenti alla formazione del mondo del mondo giovanile ma in particolare anche del capitale umano in maniera più larga allora che ruolo possono avere le aziende o devono avere le aziende in questo momento di difficoltà economica per cercare di come dire porre più l'accento su una un'unione fra istruzione e lavoro cioè cercare di dare specialmente ai giovani un futuro più non dico più certo perché sarebbe ridicolo di parlare di futuro certo però sicuramente più più sicuro forse sicuro è una parola come dire una parola difficile da usare io devo dire ho ascoltato gli interventi con qualcuno mi è piaciuto molto soprattutto mi è piaciuta la leggerezza devo dire con cui Silvi parla di argomenti così impegnativi e allora mi è venuto stamattina io mi sveglio molto presto e purtroppo passo un'ora scanalare ho visto un servizio interessante che mi fa dire che la crisi che noi stiamo vivendo che non è certo solo italiana ma insomma in questo paese ha dei toni particolarmente forti c'entra poco col profitto c'entra molto con l'avidità che ha dominato negli ultimi anni la società italiana ma non solo la società italiana e c'entra davvero poco col profitto io stamattina ho visto un servizio in cui un centinaio di operai rimasti senza lavoro hanno rilevato dal fallimento la loro azienda e questo operaio imprenditore con grande soddisfazione diceva abbiamo chiuso il primo anno con profitto e lo abbiamo reinvestito lo abbiamo reinvestito nelle nostre risorse umane e lo abbiamo reinvestito in macchinari allora io credo che la parola profitto vada davvero riabilitata riabilitata con quel concetto di cui si parlava prima anche di profitto sostenibile di crescita sostenibile ma sono temi che conosciamo tutti molto bene il contesto olivettiano degli anni 60 e il contesto di oggi non sono neanche lontanamente paragonabili parliamo davvero di tempi molto diversi che hanno vissuto come dire momenti davvero molto diversi la fabbrica era il centro della vita l'individuo era il motore della fabbrica attraverso il lavoro acquistava dignità e quindi libertà che portava a sua volta nella comunità e nella crescita della comunità allora mi chiedo peraltro spesso anche cosa avrebbe fatto Adriano Olivetti se avesse dovuto affrontare quella rivoluzione epocale che ha colpito quel tipo di industria nel passaggio tra l'elettromeccanica e l'elettronica che ha portato poi inevitabilmente alla necessità di fare grandi ristrutturazioni ma ristrutturazioni necessarie perché le aziende fossero sostenibili e potessero continuare a vivere però certamente si sarebbe scontrato con un suo modello di lavoro e di dignità dell'uomo all'interno dell'azienda io credo che dobbiamo rimettere l'uomo come dire al centro delle nostre politiche che siano politiche di paese o politiche di impresa e dobbiamo soprattutto riattivare l'unico vero strumento democratico nel far funzionare l'ascensore sociale che è il merito non ce ne sono altri e il merito deve partire davvero dalla scuola è soltanto attraverso il merito che noi possiamo e quindi mi riferisco al merito delle donne al merito dei giovani al tema della disoccupazione giovanile al 40% ma comunque anche un tema di disoccupazione al 12% che non è banale non è banale quindi dobbiamo cercare di riassorbirla e per cercare di riassorbirla credo che le imprese debbano avere un po' più coraggio ma perché le imprese possono avere un po' più coraggio ci vuole certamente che torni a scusate uso delle parole molto semplici girare liquidità nel sistema lo Stato non può chiedere ai cittadini di adempiere quando a sua volta non adempia nei confronti dei cittadini e delle imprese e quindi lo Stato incomincia a pagare i suoi debiti perché questo aiuta a rimettere liquidità nel sistema e state tranquilli che le imprese negozi peraltro dei vincoli meno rigidi con la comunità economica europea perché ormai è pensiero diffuso che di rigore si può morire e credo che nessuno di noi soprattutto per i nostri figli abbia grande voglia di morire e quindi faccia quello che deve fare riacquisti dignità ai nostri occhi riacquisti rigore faccia seriamente quello che deve fare le imprese stanno io credo soltanto aspettando di poter di tornare a investire il coraggio a quel punto ce lo avranno è vero e tra l'altro quando lei parla anche di ritrovata dignità forse anche di ritrovato equilibrio forse sarà datore di lavoro e lavoratore nel senso che oggi quando le aziende chiedono magari uno sforzo in più ai lavoratori perché appunto da un certo punto di vista c'è meno lavoro quindi magari chiedono di rimanere a casa ma in altri casi vengono richiesti dei lavori aggiuntivi semplicemente perché ci sono meno persone che possono lavorare quindi ci deve essere anche un nuovo equilibrio sociale poi magari tra il datore di lavoro e il lavoratore che si trova coinvolto poi se stesso nella crisi e quindi dicendo se io posso dare una mano vuol dire che posso dare una mano anche all'impresa che poi sopravvive invece di poi io penso che oggi come dire i lavoratori abbiano grande voglia di contribuire credo però che dobbiamo smetterla e davvero pensare a come fare a dare più tutele a chi non ne ha del tutto togliendone un po' forse a quelli che ne hanno avuto troppe e che mi scusi alla fine non ne hanno perché la disoccupazione al 12% vuol dire che le aziende comunque chiudono e licenziano quindi il tema è il riequilibrio lei ha ragione tradattore di lavoro lavoratore per l'amore del cielo credo che oggi ci sia grande disponibilità da parte di entrambi ma credo che soprattutto il passo avanti lo dobbiamo fare nel dare maggior dignità a quelli che nel mondo del lavoro non ci sono e di diritti proprio non ne hanno e quindi in particolare ai giovani al 12% di disoccupazione Emilio Petrone lei è l'amministratore delegato della CISAL diverse imprese in Italia non soltanto la CISAL hanno avviato programmi di welfare aziendale e quindi questo sicuramente è anche un altro modo per stabilire questo equilibrio ci può fare degli esempi concreti di come questo welfare aziendale ha contribuito contribuisce alla crescita allo sviluppo in un momento anche economicamente così difficile io credo che sia davvero intuitivo lo diceva anche il dottor De Benedetti noi chi gestisce un'azienda chi gestisce delle risorse ha l'obbligo il dovere di rendere di attrarre quanti più talenti possibili di svilupparli il meglio possibile quindi di avere la squadra manageriale e la gestione dell'azienda che sia la migliore possibile in assoluto questo non si può fare con metà dei talenti non si può fare avendo una sottorappresentazione del talento femminile io credo che in Italia ci sia un po' più in generale un approccio ancora non completamente maturo alla diversity e quindi alla diversità all'interno dei team rispetto ad altre culture e in particolare io credo che i numeri le statistiche le conosciamo tutti ci sia oggettivamente una difficoltà per i talenti femminili ad emergere nel nostro caso particolare io faccio l'esempio concreto che sia quello più utile noi avevamo in parte abbiamo proprio questo problema di sottorappresentazione dei talenti femminili soprattutto al vertice però devo dire che di fatto c'eravamo un po' culturalmente seduti su questo tema c'eravamo un po' abituati e questo è una cosa che porto anche per stimolo alla discussione si guardano le statistiche si vede che si è più o meno in linea con le medie nazionali e tutto sommato ci si abitua in realtà poi sono successe un paio di cose da una parte una nostra collega che ha spinto molto su questo tema che si è fatta un po' lei leader di questa iniziativa e da un altro un paio di colleghi che sono venuti a parlarmi di cose estremamente pratiche una mi ha detto mi ha detto guarda io sono molto contento di lavorare con te di lavorare in questa azienda però devo dirti c'è una cosa che veramente non funziona e che si utilizza un linguaggio da caserma mi ha detto è una roba che adesso si fanno queste riunioni sono tutti uomini si usano dei termini delle frasi delle robe che veramente io non è che voglio fare è stata anche carina insomma non è che voglio fare quella però veramente sgradevole uno e un'altra mi ha detto dice guarda il problema che ho io sono due persone diverse mi ha detto io ho una figlia una famiglia fuori fuori Milano devo rientrare a casa e i miei colleghi maschietti fissano le riunioni sistematicamente alle sei alle sette alle sette e mezza di sera e io non allora sono cose alle quali oggettivamente non si fa più caso ci sono delle aziende se non sbaglio uno di queste non voglio fare pubblicità ma uno di queste è Ikea se non sbaglio perché lo so perché mesi fa ero con uno dei delegati di Ikea in Svizzera che mi diceva che lei non fissa mai le riunioni dopo le 5 di pomeriggio allora se Ikea può funzionare a livello mondiale senza riunioni dopo le 5 del pomeriggio penso che tutte le aziende del mondo lo possano fare questo mi sembra abbastanza chiaro però quello che voglio dire è che ci si abitua ci si abitua diventa parte della cultura aziendale non si dà più importanza a queste cose non le si vede neanche più allora noi da questo da questi spunti per la verità abbiamo deciso di prendere la cosa di petto un po' anche la cultura che sto cercando io di portare in azienda e da questo abbiamo deciso di fare un programma abbastanza strutturato l'abbiamo fatto tra l'altro con l'aiuto di Valore D l'abbiamo chiamato WISE che significa Women in Cisal Experience un nome che è stato dato tra l'altro dal team che abbiamo creato e stiamo facendo delle cose stiamo facendo delle cose concrete abbiamo fatto un abbiamo fatto un programma di change management proprio per far venire fuori questi problemi che non venissero fuori solo dall'incontro così sporadico quindi abbiamo fatto dei focus group dei gruppi di lavoro e devo dire sono venute fuori una serie di cose incredibili incredibili alcune anche molto negative devo dire che ti fanno che ti colpiscono che hanno colpito un po' tutti poi abbiamo fatto un programma di formazione dedicato per aiutare i nostri migliori talenti femminili ma abbiamo coinvolto anche le quote azzurre quindi i maschi all'interno del programma e fare in modo che si potessero creare dei piani di carriera e ultimo stiamo lavorando molto sul networking cioè sulla capacità di scambiarsi esperienze sia all'interno dell'azienda che al di fuori utilizzando anche il network di valore D e devo dire che è stata una delle iniziative da quando io lavoro in azienda che ha creato più entusiasmo e devo dire anche a me personalmente ha dato un livello di popolarità ho ricevuto una quantità di email di complimenti di riconoscimenti proprio da parte delle persone incredibile quindi questo per dire che a volte il problema non lo vediamo e invece va guardato più approfonditamente ma anche che poi risolverlo o almeno affrontarlo per risolverlo non è così difficile do un paio di numeri noi 18 mesi fa avevamo l'11% di dirigenti donne in azienda dopo 18 mesi siamo saliti al 17% in realtà se escludiamo la fascia del comitato direttivo che ovviamente è un po' più lento perché non possiamo mandare a casa qualche maschietto bravo per inserire una donna se non ci vuole un po' più di viscosità nel rinnovamento siamo al 21% al netto di questo gruppo e abbiamo promosso negli ultimi 18 mesi 4 dirigenti donne due interni parte di questo programma e due invece dall'esterno e quindi stiamo oggettivamente e quindi anche in concreto al di là di evitare magari le riunioni la sera alle 7 o alle 8 poi altri esempi concreti ma non soltanto magari della sistema in generale quando si parla di welfare aziendale cosa devono fare cosa potrebbero fare le aziende per poter mettere io dico le donne perché siamo in tema di donne però insomma non c'è niente di male a dire che anche un padre magari alle 6 o alle 7 di sera deve andare a fare la spesa perché deve cucinare perché magari la moglie viaggia e non può essere a casa insomma quindi poi concretamente quali altri esempi anche per dare qualche idea anche ci sono molti esperti in questa sala magari chi ci guarda chi ci guarda da casa in streaming può prendere qualche qualche idea da come si possono aiutare non solo le donne ma in particolare insomma le donne ma io credo che un tema molto importante sia quello della flessibilità perché ci siamo un po' abituati e devo dire la nostra generazione l'ha portato un po' avanti quasi come una bandiera a una flessibilità diciamo del dipendente del manager del lavoratore nei confronti dell'azienda quindi una flessibilità totalmente unilaterale chi non era o non è flessibile automaticamente non è considerato un talento non è considerato sufficientemente dedicato alla causa eccetera allora questa è una cosa sicuramente essere flessibili nei confronti dell'azienda è una cosa positiva però io credo che si debba iniziare anche ad offrire flessibilità e quindi a vedere delle aziende più flessibili nei confronti dei lavoratori per esempio sì in tutti i sensi devo dire molto la flessibilità negli orari io credo questo sia straordinariamente importante se siamo delle persone se abbiamo delle squadre se ci fidiamo dei nostri collaboratori io credo che non sia tanto importante davvero l'orario il numero di ore ma gli obiettivi i risultati che si portano avanti noi qui stiamo facendo delle cose anche col telelavoro la possibilità di lavorare a casa lo stiamo testando in questo momento e devo dire che effettivamente è una delle cose che può funzionare poi ci sono tanti altri modi effettivamente quello di sostenere non necessariamente le donne donne e uomini un po' nelle difficoltà che tutti abbiamo nella vita quotidiana quindi il supporto nella gestione dei figli che significa appunto fare degli accordi per gli asili ma anche poi in seguito visto che come diceva i figli non è che a 3-4 anni poi scompaiono anche per lo sviluppo creare dei programmi di formazione aiutare nello sviluppo e nella formazione dei programmi di scambio con altre aziende ci sono una serie di cose che io credo si possano fare che possono avere un impatto straordinario sulla motivazione ma siccome qui parliamo di profitto io volevo chiudere con questo anche incredibilmente sul profitto dell'azienda cioè io credo che tutte queste cose quando parliamo di responsabilità sociale e quindi quella esterna all'azienda ma in particolare quando parliamo di welfare aziendale quindi dell'attenzione alle persone che lavorano insieme a noi e per noi occuparsi di questi temi e fare delle cose giuste delle cose positive abbia un incredibile risultato sui risultati dell'azienda lo vedremo credo in uno studio di McKinsey che seguirà dopo questo dibattito Greco rapidamente la tecnologia aiuta moltissimo naturalmente chi vuole lavorare a casa ora lo chiedo a lei perché rappresenta qui no no la tecnologia aiuta tantissimo poter fare il lavoro da casa quindi anche questo rispetto magari a 10-15 anni fa dove una connessione internet per poter lavorare a casa era impensabile di avere la stessa tipo di accesso all'informazione a casa rispetto rispetto all'ufficio devo dire che non sono convinta che sia del tutto la soluzione non sono convinta che sia del tutto la soluzione cioè non credo che pensiamo a un mondo in cui il contributo femminile debba essere quello di stare a casa collegati col pc e tagliate completamente fuori da un altro ma se lo richiede però se lo richiede l'azienda è d'accordo voglio dire che aiuta così come aiuta quando siamo in giro per lavoro durante il fine settimana andarsi a leggere le mail cioè è come se fossimo sempre produttivi no io credo che il lavoro sia anche socialità credo che sia anche scambio con le persone con cui si lavora credo che sia arricchimento del contesto in cui si lavora che questo debba essere e quindi penso che il telelavoro di cui scusate si parla da 20 anni ma non ha mai funzionato granché non funzioni proprio perché mancano questi banali elementi per cui il lavoro fa parte della dignità della nostra dignità della crescita del nostro percorso e quindi va condiviso con gli altri perché stare con gli altri è anche un arricchimento il telelavoro va benissimo va benissimo nei momenti in cui è necessario fare telelavoro o magari cerca di ricreare questo quindi a prescindere dalla tecnologia mi sembra un tema più sociale che non tecnologico va bene allora chiudo con Laura Donnini direttore generale e amministratore delegata di RCS Libri una profonda conoscitrice del mondo dell'editoria però le donne sono sempre più protagonisti nei consumi e nelle aziende sono sempre richiamate un po' a ripensare anche ai prodotti che mandano sul mercato quanto spazio c'è per proporre prodotti editoriali e culturali sempre più pensati e rivolti a un pubblico femminile cioè quanto bisogna pensare esclusivamente al pubblico femminile rispetto al pubblico chiamavano generalista o comunque anche gli altri quindi anche maschi bisogna concentrarsi sull'acquirente donna per avere successo ma partirei da qualche numero che poi in realtà è più che noto è evidente che le donne che pesano più o meno metà della popolazione italiana sono responsabili degli acquisti di circa oltre il 70% degli acquisti e non solo la spesa quindi non solo i beni tipicamente di consumo per la cura della casa la cura della persona il cibo eccetera sempre più influenzano gli acquisti di beni durevoli 60% degli acquisti di auto sono influenzati dalle donne anche se poi l'atto d'acquisto lo compie l'uomo i computer 47% i computer vengono comprati dalle donne prodotti finanziari non si parla mai di prodotti finanziari perché già il concetto di denaro così come quello di potere sono un po' strani per l'universo femminile ma è evidente che le donne sono passate negli ultimi anni da amministratrici di reddito a generatrici di reddito e quindi il denaro e tutti i prodotti finanziari annessi al denaro cominciano ad essere un tema per le donne abbiamo parlato prima della propensione al mettersi in proprio che è aumentata radicalmente negli ultimi quattro anni le pagine economiche dei giornali in quattro anni sono passate dal 20 al 40% la lettura delle pagine economiche dei giornali dal 20 al 40% io sono nel mondo dei media è evidente che in un paese di non lettori giusto per ricordare quanto ignoranti siamo in Italia solo il 46% della popolazione dichiara di leggere un libro in un anno le donne valgono il 52% non parliamo dei femminili non parliamo della tv generalista ma è evidente che le donne sono in effetti il target di riferimento ora qual è il tema tra fare prodotti per le donne e credo che oggi ci sia sempre più un'attenzione lo si vede da tutti i beni di consumo a riconoscere un po' le esigenze femminili ma c'è un tema fondamentale le aziende oggi hanno bisogno di una reputazione di una corporate image che sia protetta e in qualche modo alimentata positivamente e chi è che alimenta la corporate image delle aziende le donne perché perché le donne oggi sono hanno trovato un agora per esprimere le proprie opinioni nei social media sappiamo qual è l'incidenza di facebook nel mondo in italia sappiamo che 27 milioni di uomini e donne di popolazione va su internet oltre la metà di queste sono donne e guarda caso sono quelle particolarmente attive allora non è solo una questione di fare prodotti attenti alle esigenze femminili ma è anche una questione di rispetto di dialogo quindi qualsiasi prodotto o forma di comunicazione di intrattenimento di informazione deve tener conto della reazione e oggi la reazione delle donne può essere forte lo si vede dal successo di tutti i siti dei blog delle community che in qualche modo nascono intorno a prodotti marchi o anche solo temi e il tema delle donne per esempio entrando più nello specifico sui temi della parità ha visto sorgere nell'arco di un anno una quantità di iniziative su twitter su facebook incredibilmente capaci di smuovere le coscienze per cui da questo punto di vista è obbligatorio per la gente per la gente scusate per i manager e comunque le persone che in qualche modo possono determinare le scelte tener conto di questo aggiungo un piccolo dettaglio personale che però secondo me oltre a essere un fatto di orgoglio per me però la dice lunga io ho lavorato per sette anni in un'azienda considerata di serie C nel senso che ho fatto per sette anni il direttore generale di Arlec in Mondadori che notoriamente è nota perché fa i prodotti i romanzi rosa a marchio Harmony e nell'elite culturale del media italiano i romanzi rosa sono roba da serie C peccato che quel modello di business fosse un modello straordinariamente avanzato e quell'azienda fosse a livello mondiale all'avanguardia rispetto a quella che poi è stata la transizione al digitale eccetera allora parlare di romanzi rosa femminile uguale rosa uguale serie C nel mio caso in realtà si è trasformata in una storia da cenerettola perché da lì sono passata in Mondadori e adesso ho una posizione ancora più grande in un'altra azienda però tutti i miei colleghi in tutto il percorso che ho fatto in questi dieci anni ancora ieri tanto per dirne una quando parlavo senti parlare di prodotti femminili parlano di alto basso e femminile alto basso e femminile è una grandissima follia perché il femminile che cos'è femminile uguale a un certo sottogenere che in qualche modo denota dei tratti qui secondo me sta la sfida la sfida delle aziende di mettere nelle posizioni che contano donne che siano in grado di portare la trasformazione innanzitutto all'interno dell'azienda e poi chiaramente nei prodotti che vengono fatti poi ci sono molti temi che si sovrappongono se una volta la cura del corpo per esempio era una cosa prettamente femminile oggi ci sono dei settimanali o dei mensili dedicati alla cura del corpo maschile la cucina tutti i grandi chef sono praticamente uomini quindi tutti quelli che vanno in televisione a parlare di cucina e cucinare sono praticamente uomini quindi insomma c'è un po' un accavallamento del mondo maschile e del mondo femminile anche nei nei medi allora abbiamo ancora pochi minuti prima di dare la parola alla ricerca di McKinsey di cui si parlava prima però vorrei fare una domanda generale un po' a tutti perché abbiamo parlato molto di quello che è successo di quello che sta succedendo adesso però se noi visto che siamo in giorni politicamente caldi e quindi si sta formando un nuovo governo e quindi si spera magari che la componente femminile anche se quello che appena sta per decadere ha comunque tre donne di altissimo livello ecco se uno dovesse guardare avanti adesso e chiedere al governo che cosa dovrebbe fare concretamente quali decisioni devono essere prese concretamente per stabilire questo equilibrio fra profitto leadership e rispetto da dove bisogna partire faccio veramente un paio di minuti a testa senza particolare ordine se qualcuno ha già non so se De Benedetti ha già qualcosa in mente da dove bisogna partire da dove si parte ma la domanda è vasta e per cui la risposta è complessa se vogliamo semplificare io penso che bisognerebbe partire dal lavoro penso che quando si vive in un paese dove il 40% dei giovani non hanno lavoro e il 12% in generale non hanno lavoro e questi numeri stanno aumentando perché la recessione è continua non è che è finita e per cui rischiano di essere peggiori solo fra qualche mese penso che l'urgenza di mettere al centro dell'agenda politica il tema del lavoro sia totale questo vuol dire credo diciamo fare in modo che qualsiasi decisione in materia di politica economica che viene presa in sede di governo in sede di parlamento ci si ponga la domanda e si al limite si costituisca un gruppo di lavoro una commissione che dica qual è l'impatto sulla pil qual è l'impatto sulla capacità di creare lavoro di questa è favorevole o non è favorevole se non è favorevole non va bene bisogna forse essere un po' estremisti e se si vogliono stabilire delle priorità bisogna anche magari esagerare un po' ma credo che in questo momento sia essenziale purtroppo negli ultimi anni non è stato fatto temo che una delle cause della grave recessione economica che in Italia è peggiore rispetto a quella che c'è nel resto dell'Europa sia anche questa ma creare lavoro quindi sicuramente è un buon modo per far ripartire l'economia quindi mettere anche le aziende in condizioni di assumere di pagare meno magari il lavoro sicuramente queste sono tra le priorità nell'immediato però lavoro sicuramente perché lavoro è tra virgolette tutto come abbiamo sentito per un sistema diciamo non solo economico ma sociale se io dovessi chiedere però qualcosa a un governo forse questo un po' più difficile perché non sappiamo che prospettiva avrà sarebbe di cercare di avere davvero una prospettiva di lungo periodo cioè di cominciare ad avere a ragionare sul futuro nostro dei nostri figli appunto come diceva Sen forse addirittura dei nostri pronipoti di fare scelte anche difficili ma di provare a giustificarle appunto in una prospettiva di rinunce nostre di qualcuno di noi di qualcuno che forse ha beneficiato troppo appunto per garantire un futuro vero di un intero sistema appunto di generazioni future quindi dei nostri giovani ma forse non solo loro appunto anche di quelli a venire credo che una serie di ricette in fondo ci siano ma queste devono essere veramente secondo me pensate per un futuro più sostenibile quindi con un grande coraggio credo Patrizia Grieco lei nel suo intervento ha toccato un tasto dolente che è il vasto debito che la piane con fronti delle aziende le dico solo una cosa che mi è spessa ieri sera visto che ognuno parla di di piccoli aneddoti personali ma sono poi quelli che ci fanno capire meglio forse ero a cena con degli amici alcuni inglesi alcuni americani e quando gli dicevo da dove si riparte perché il problema fondamentale dell'azienda non è soltanto il lavoro così ma è anche che hanno dei grossissimi crediti nei confronti dello Stato che contemporaneamente chiede tanti soldi tasse e quant'altro e la domanda che mi hanno fatto a me ma perché lo Stato non li paga cioè come se fosse una cosa normale che lo Stato paghi i suoi debiti cioè per loro l'idea che ci fossero miliardi di debiti nei confronti delle aziende e che in qualche maniera questi siano veramente non un granello di sabbia ma una chiave inglese che blocca questo sistema è un concetto che fuori da questo confine si capisce difficilmente quindi forse si potrebbe ripartire questo governo da dove si sta chiudendo questo cioè cercare veramente di mettere la pubblica in condizioni di pagare i debiti delle aziende però io ho parlato con molti imprenditori mi dicono che il sistema per ottenere questi pagamenti è talmente complicato che ci vogliono cioè bisogna pagare qualcuno quasi più di quanto uno non possa recuperare per poter recuperare i soldi in alcuni casi adesso non credo certo voglio dire il tema del debito dello Stato italiano nei confronti del mondo dell'impresa adesso poi c'è chi è molto più autorevole di me a parlarne è chiaramente un problema che si è accumulato negli anni legato al nostro debito pubblico all'accertamento di quel debito pubblico quindi per l'amor di Dio io faccio soltanto notare che il rapporto Stato-Cittadini Stato-Impresa è profondamente alterato perché non so bene il nuovo decreto cosa consentirà di fare ma fino ad oggi non si è potuta neanche fare la compensazione tra quello che l'impresa doveva e quello che lo Stato doveva pagare quindi certamente è una priorità così com'è una priorità cercare di creare le condizioni perché appunto venga rimessa liquidità nel sistema quindi se si potessero allentare per esempio un pochino le norme di Basilea 3 per quello che riguarda il sistema creditizio sarebbe un altro grande aiuto verso il mondo delle piccole e medie imprese soprattutto verso il mondo delle piccole e medie imprese tenete sempre conto che in alcune situazioni noi paghiamo i dipendenti a 30 giorni e veniamo pagati a due anni quindi voglio dire il tema finanziario è un tema che nel nostro paese esplode perché il costo del lavoro si paga a 30 giorni quindi il tema è davvero molto complicato penso che sia stato estradato forse non saranno le misure definitive probabilmente deve essere reso più semplice ma credo che oggi ci sia grande consapevolezza che non si può più scherzare personalmente credo che al nuovo governo chiederei soltanto misure sul lavoro tanto qualunque misura che abbia effetti positivi sul PIL deve generare occupazione e quindi credo che la priorità sia generare occupazione e riassorbire incominciare a riassorbire almeno in parte quel 12% che è drammatico per i giovani ma io credo che diventerà drammatico in termini sociali se non si interviene se non si interviene drasticamente Petrone il passo successivo quindi poi qual è ma non so se è un passo successivo io credo che credo che ci sia bisogno di effettivamente sono d'accordo di strategia cioè di decidere quali sono le linee guida per il futuro qualunque se siano insomma e poi seguirle in particolare credo che ci sia un grandissimo bisogno di una politica industriale chiara e solida negli ultimi anni da questo punto di vista si è fatto si è fatto poco oggi non è molto chiaro quali sono i settori su cui lo Stato punta e quelli invece su cui punta meno io credo che questo sia indispensabile come succede anche in altri in altri paesi chiaro che questo significa fare scelte ogni volta si decide di creare una strategia bisogna poi decidere delle priorità perché non si possono seguire 50 iniziative o 50 strade bisogna seguire ne 3, 4, 5 e quindi fare delle scelte per questo ci vuole un governo ci vuole un governo naturalmente che abbia che abbia le idee chiare credo anche secondo punto che si possa sfruttare meglio la relazione tra pubblico e privato che a volte viene vissuta solo in maniera adesso ne stiamo parlando antagonistica e non di collaborazione in realtà oggi le aziende private hanno tantissime risorse e competenze che potrebbero essere messe al servizio del pubblico ricevendone in cambio insomma appunto una chiarezza strategica per il futuro faccio un esempio si potrebbero comunque chiedere delle associazioni di categoria delle analisi di settore e condividerle appunto per aiutare chi deve decidere a decidere su cosa puntare e quali sono i settori chiave su cui vogliamo fondare lo sviluppo del paese nei prossimi 3-5 anni Donnini lei che rappresenta qui il mondo dell'editoria un altro settore insieme insieme questo è vero questo è vero comunque il settore che affronta è una crisi non dico più grave rispetto agli altri ma insomma sicuramente ci vogliono delle idee ma non soltanto delle idee bisogna anche essere messi in condizioni di poterle poi applicare queste idee da dove si riparte da dove si può ripartire se si potesse una bacchetta magica chiedere al governo da domani fate così o decidete colà beh io condivido in pieno quello che hanno espresso i colleghi la prima ricetta che mi verrebbe da da pensare stante le aspettative che la riforma Fornero aveva generato e quindi anche la partecipazione di tutti i giovani ma soprattutto delle donne che lavoravano con me nell'azienda precedente era la detassazione anche parziale relativa all'occupazione diciamo giovanile entro una certa soglia d'età piuttosto che delle donne quindi in qualche modo avere delle misure che oggettivamente rendano più flessibili le assunzioni e detassate in seconda battuta ma questo sarebbe un auspicio eliminare le misure di welfare aziendale dalla tassazione delle imprese e dalla contribuzione dell'individuo io ricordo vent'anni fa mi sembra fantascienza un'esperienza nell'azienda dove sono stata 10 anni a proposito di profitto e anche di commitment e di contributo che poi ogni singolo individuo può dare al risultato aziendale valeva il principio del profit sharing cioè l'ultimo della scala diciamo aziendale quindi notoriamente il centralinista e l'amministratore legato avevano dei percentuali chiaramente variabili ma partecipavano a una quota del profit annuale quindi distante dal concetto di MBO di oggi per cui il risultato il raggiungimento il risultato è appannaggio di alcune figure però in qualche modo portare tutti alla partecipazione al profitto non so se questo attraverso ancora una volta misure di tra virgolette detassazione o meno e poi il tema della che cosa possiamo fare noi diciamo nel media concluderei dicendo che abbiamo una grandissima responsabilità le televisioni in primis i giornali che siano quotidiani che siano periodici i libri che è la responsabilità di far leggere al femminile una società e quindi portare la consapevolezza dei modelli che sono però i modelli veri i modelli delle donne autentiche non quelle rappresentate notoriamente o nelle fiction televisive piuttosto che nei romanzi di genere e portare in qualche modo tutta la popolazione ad avere dei modelli che in qualche modo mettono in evidenza le caratteristiche e le parità da questo punto di vista credo che ci siano già negli ultimi anni degli esempi di straordinaria eccellenza che magari non hanno i numeri perché poi il tema vero è sempre quello di far combinare le due necessità di prodotti tornando al tema dei prodotti che stanno andando in questa direzione abbiamo Didi Repubblica che è uno straordinario esempio il Corriere della Sera io donna la 27esima ora abbiamo Real Time con il fantastico lavoro che ha fatto Marinella Soldi in quest'ottica di proporre proprio dei modelli dei contenuti dei modelli che siano più attinenti alla realtà che in qualche modo promuovano certi tipi di consapevolezza questo è il ruolo che noi possiamo fare partendo dal basso e poi dare voce ma chiaramente ce la stiamo prendendo alle donne affinché la consapevolezza di questi temi diventi pane quotidiano bene grazie mi dicono che dobbiamo accelerare un pochettino i tempi sul nostro programma quindi vi ringrazio davvero se la domanda era profitto Angelo Demone possiamo rispondere se utilizzato bene sicuramente è un angelo grazie grazie grazie